Chiara stai laggando? Come ti permetti di laggare eh? Dimmi un po' brutta zozzerellona schifosa Eh ti ho dato io Vabbè Duniziani iniziamo questo video così Sì ti ho sentita e come se ti ho sentita Eh tutta rinco Allora Duniziani oggi giochiamo a strega comanda colore Sì finalmente meno male E quindi bravo Gabri E quindi parto io e vado sopra la montagna Ma una cosa ma siamo tornati nel villaggio Con strega comanda colore Assolutamente sì assolutamente sì Beh non so Gabri cosa vai lì Eh infatti Cioè sì vabbè Che non siamo di nuovo Vabbè esatto Perché nello scorso episodio eravamo tipo No in un altro villaggio che avevamo costruito loro Molto campeggio Molto campeggio sì esatto Allora La strega comanda colore blu Sì sì Dai andate sul blu Ho creatura dello schifo Comunque se vedete Allora Fede l'ha stata Fede o Angelo? Angelo 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 Si è fermato là sopra Oh Duniziani Allora Buonissimo Angelo Angelo va immediatamente nella gatta buia Vai nella gatta buia Angelo Che è schifo Che è puzzi Fai 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 Sto finendo mia nonna Bravo Cosa? È arrivata la nonna Ah Duniziani 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 Comunque Abbiamo messo queste cose bellissime intorno Strega comanda colore azzurro Forza Eh Non me lo aspettavano Non se l'aspettavano Non se l'aspettavano eh È stato Gabri Che è schifo No io ero la prima Immediatamente No però io ero la prima Non è vero Non è vero No è che Allora Se litigate vi litigo io le vostre Eh Quindi No 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 Vi litigo le 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 chiappette Allora Quindi Cosa? Allora Strega comanda color Eh 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 Strega comanda color È rosa Mi sta succedendo un colore È rosa È rosa È rosa No Non è giusto Non lo ricordo Che sono fatta Oh state urlando come delle scroffe anziane Allora comunque Mi dispiace Chiara hai perso Mi dispiace molto Quando sei triste devi fare No Uffa Non ho parole Eh perché sennò poi dopo se non parli Se fai solo È così è un po' triste Chiara Quindi devi parlare Eh deve essere una cosa triste Ho perso è triste No deve essere più parlata Se no Ti 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 banno Potete aprirci please No Comunque questa è una persona È che adesso prima di tutto Oscurerò il messaggio Perché non voglio che scriva Perché probabilmente scriverà Quindi ho oscurato il messaggio Una nuova funzione di Minecraft Comunque Sì è troppo bella Uscite Sì esatto Esatto È molto bella Oh Allora forza Adesso strega comanda Vai fai tu Fede Perché adesso è tuo turno Strega comanda colore bianco Dov'è il bianco? Da questa parte Anzi la fontana La fontana La fontana è il più bianco possibile Quindi Assolutamente fontana Ah che schifo Angelo di nuovo Che schifo Angelo Vai immediatamente Di nuovo no vabbè Vai immediatamente nel Eh sì ma Comunque non può parlare Perché mi sa che è poverito Eh La nonna La nonna con la dammigiana Ed altre cose La nonna con la dammigiana Allora Allora Rega comanda colore arancione Arancione Comunque Arancione di qua Ah da questa parte Si sta lamentando Della sciattica Cos'è la sciattica Della sciattica Cos'è la sciattica Eh infatti cos'è Allora Devevi rifare Perché ho perso Eh sì si deve rifare Eh esatto Vai No aspettatemi Che devo mangiare Sono rimasta indietro No come sei rimasta indietro Mannaggia te Eh sì stavo andando lentissimo Mannaggia te gabrocione Rega comanda colore rosso Rosso E da che parte Dai che rottore Allora adesso io vi ammazzo Vi ammazzo la vita Ma eh Dennis è dietro di te Stai zitto Ma mi interessa Allora Forza che adesso mi sto Allora Rega comanda colore grigio E qual è il grigio Questa cosa qua Ok perfetto Strega comanda colore Mi dispiace che abri Allora adesso vai in gatta buia Strega comanda colore Viola Viola Da che parte è il viola Dove è il viola Dove è il viola L'avete tolto mi sa Ah di là di là No 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 Non l'abbiamo tolto Non l'abbiamo tolto No quelle fu Magenta No è vero No no sta lì No Allora magenta 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 Eh sì vabbè Eh vabbè dai Non puoi cambiare Adesso c'è Chiara No 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 Questa cosa Questa vittoria non è assolutamente valida Dove mi ripare Strega comanda colore verde scuro Verde scuro Ciara Qual è il verde scuro Queste le foglie Le foglie Eh vabbè ha vinto Chiara dai Su via Ha vinto sì Eh esatto sì Brava brava Così sì è stata molto brava Allora Io sto sentendo un leggero eco Non vorrei dirvi Eh un pochettino anche io Eh Chi è Chi è la creatura Chi è la creatura Chiara mi sa che Forse è Chiara Forse è Chiara No come Gabri No no mi sa che sono io Eh abbassa il volume Non va bene Non va bene questa cosa Allora Ah Angelus Salve Ti è morto Ti è morto Non lo so Ti è morta No che brutta cosa da dire Perché solo per dire È una cosa brutta Perché No non è una bruttissima cosa Scherzavo Poverina Poverina No perché magari Perché magari Fede ha capito No perché magari Era successo qualcosa Che deve fare La rianimazione Per Capito vabbè Cosa sta facendo Ma che sto vedendo È uscito pazzo È uscito pazzo Mi sa di sì Vabbè comunque Chiara Prego Comanda color blu Blu da questa parte Mannaggia a voi Ok Io sono il primo Fede Fede Mi dispiace Mi dispiace Cos'è che sei? Sono l'ultissima Proprio l'ultissima Mamma mia Mannaggia la connessione Che non funziona Duniziani Dovete perdonare Fede Perché è una connessione Che tipo Appena Cioè gli arriva Tipo la parola Dopo 3000 anni circa Sì esatto È una cosa un po' difficile Vai Chiara Ci dica Prego Comanda color marrone Ma Questa Questo è marrone Non rompere le parti Questo è marrone Oh Perfetto Gabri Gabri Mi dispiace molto Lo sapevo Vai vai Nella gatta buio Vabbè Allora la rifai La rifai Tranquilli Cosa sta dicendo Angelo Sto leggendo Amorini Cosa c'è Cosa c'è Angelo Ma cosa Strega comanda colore Strega comanda colore Giallo Giallo E da che parte è il giallo Ah da quella parte Ho trovato un fiore giallo E qua io 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 Ah ah Stupido Ah Denis Ah 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 Finalmente ho vinto qualcosa Finalmente grazie al signor Strega comanda colore Bianco 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 La fontana La fontana Ok perfetto Denis che l'ha spento per un attimo Oh Quelli permetti Davvero mi sono spento Eh mamma mia Queste porte che bussano E che E che Duniziani adesso Ma c'è veramente Ma quando registro io Ma perché devono succedere le cose Quando registriamo C'è nel senso Eh lo so Bussano C'è bussano alle porte Da sole si bussano Sì Ma C'avete i fantasmi in casa Altro che fa smofo C'è duniziani Guardate che pericolosa Come cosa Vai Strega comanda colore grigio Grigio Questa Ah Chiara l'ultima No Non è giusto Wow Cos'è stata questa Versaccia Eh Versaccia Sei una Versaccia Angelo Sei una Versaccia Ma guarda tu Una Versaccia Vediamo Vediamo chi vincerà Tra Denis e Angelo Ok Vediamo Vediamo Vai Strega comanda colore Arancione Arancione Da questa parte Da questa parte Oh porca La torcia La torcia La torcia No quella è gialla È gialla No quella è giallo Che arancione vedi tu Nella torcia Ma che è puzzo di broccolo Che cosa Ha vinto Denis Vabbè ok perfetto Oh finalmente Sto recuperando I indonesiani Farò finta che questa cosa Non sia stata fatta apposta Da Angelo Comunque Aiuto Allora Ah ciao Chiara Salve Ah è vero Che è in prigione Sì 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 Ma scusate Scusate ma siete morti Tutti per un attimo Domanda No 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 Ma te pare Vabbè No lo rifaccio io Lo rifaccio io Perché la strega Però Io lo faccio fra di voi Lo faccio fra di voi Perché è più bello Così guardate Allora Questa cosa Immediatamente Immediatamente via Che schifo Che schifo Meglio così Meglio così Meglio così Adesso sei punito Per il danno Che mi hai fatto Alla mia Alla mia persona Eh Ti devi vergognare Allora spostatevi Ti devi vergognare Eh Ti devi Adesso Adesso sai cosa devi fare Devi Devi pentirti Come Mi fento Lecca la porta Lecca la porta No Nemmeno Che schifo Datemi immediatamente Un acciarino Allora Evitate questo Stiamo facendo un mercato Perché Chiunque Sta dicendo una cosa Sua qua In questo caspito Di video Non è possibile Io che cerco di dire Una cosa Tutti quanti che fanno Scusate Possiamo parlare Dammi questo Accendino immediatamente Perché adesso Adesso ti devo bruciare Perché la vendetta Va assaporata Dolcemente Pianamente Oh guardate che bello Comunque mi sa che non può fare Ah no Comunque No Cos'è successo Oddio quanto in alto L'hai messo In effetti Oh madonna Delle rose Dunisiani qua Stanno succedendo cose Impensabili E io ve lo dico Eh Ho notato Eh mi sa che qualcuno Hai crashato Mamma mia Ma io pensavo Che era verde No No E infatti pur io Ehi Ciao angelo Allora stai zitto Stai zitto Perché non ti voglio più sentire Sei fuori da questo video No Mutati Mutati Strega comanda color Giallo Vai Andate sul giallo Creature Giallo Giallo Il granito Era più giallo Quello di Gabriee Non avete ancora fatto Vabbè è sempre giallo Non avete ancora fatto Non avete ancora fatto Non avete ancora fatto Ok Fede è l'ultima Eh beh io ci sono Mi dispiace Fede Mi dispiace tanto A volte nella vita Purtroppo può capitare Però Queste situazioni vanno accettate E detto Ok io sono abbastanza bravo Da poter riemergere Intanto puzzi Guardate che stupida Almeno ho vinto una volta Yay No adesso Adesso decido che non hai vinto Nemmeno una volta Ah stupida No scherzo 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 Ma povera No No lo sai che ti vogliamo tutti bene Ah strega comanda color viola No scherzavo il viola non c'è Strega comanda color rosa Vai rosa 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 Di qua di qua Di qua di qua Assolutamente Assolutamente Devo vincere io Devo vincere io Vediamo chi vince invece È niente No Io Stupidino Sciocchino Invece devi andare in pigione Perché non hai vinto No Eh 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 Mamma mia Comunque Gabri si vede che non ha proprio vergogna Bravo Gabri Così ti voglio Devi essere coraggioso Mamma mia Allora strega comanda Aspetta un attimo Ma quindi No basta Siamo io vinto Ah Allora facciamo solo un turno io e te Strega comanda color azzurro Ah ho vinto io Stupida No non è giusto Stupida Non è giusto Ah Un pochino barato Potete aprirci please No adesso restate lì dentro No Anzi vi muriamo Guardate Cosa Quindi tunisiani No Potete fare quello che volete Esatto Quante Cosa Chi Come Chi è stato Chi è stato a fare questa cosa così terribile È un sacrilegio È un sacrilegio contro Dunis Chi è stato Creatura È stata Fede È stata Fede quella schifosa No no è stato un elfo È stato un elfo Un elfo Un elfo Un elfo Allora ieri il figlio relegati Nella dimensione elfonica Tanto tempo fa Non possono essere statati loro Cos'è che ho detto No comunque scherziamo Dovete restare Dovete restare qua per l'eternità No E quindi Va bene ok Quindi tunisiani Noi finiamo qua questo video Iscrivetevi al canale Lasciate like Io queste cose le dico Perché sono ancora un canale emergente Chiaramente Scrivete nei commenti Fiore rosso Saltami addosso Così Pem E mi è saltato addosso Avete visto Pazzurdo Pem Così Pem Mamma mia Pazzurdo Fiore rosso Saltami addosso E ci vediamo al prossimo video Ciao Donisiani Ciao 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 Ciao